In Turchia sono stati condannati appena fra i 3 e i 10 anni di carcere i due agenti di polizia e i quattro civili responsabili del pestaggio a morte di un manifestante durante la rivolta di Gezi Park. Ali Ismail Korkmaz, un ragazzo alle vita di 19 anni, è morto dopo 38 giorni di coma colpito da un gruppo di uomini, tra cui i poliziotti.